Buongiorno, buongiornissimo a tutti, bentrovati in questo nuovissimo video, un saluto a tutti da Max, torniamo a parlare anche oggi di Grande Fratello Vip, solo che adesso è il momento di Edoardo Tavassi, momento soltanto per lui, perché è lui ad essere finito nel calderone delle solite polemiche che proprio noi andiamo in qualche modo a cercare. Questi ultimi giorni sono stati decisamente infuocati e non poteva finire peggio di così questo 2022, che ormai è alle porte, cioè alle porte quasi chiuse. Si apriranno quelle del 2023 per tutti noi, speriamo sia un anno migliore per tutti. Comunque, tornando al programma, Alfonso Signorini, che si sta godendo le vacanze di Capodanno ed è sbarcato su TikTok grazie a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, avrà l'ardo compito di abbassare la tensione nella prossima puntata che ci sarà in diretta, attenzione subito con l'anno nuovo, ovvero il 2 di gennaio. Quindi possiamo subito anticipare che sarà molto difficile la situation, visto che quasi tutti si sono scontrati nella casa. E adesso il Grande Fratello, insomma il dito, è stato puntato, più che puntato contro Edoardo e una fetta di pubblico ha addirittura invocato drastiche decisioni sul suo conto. Sappiamo che però non spetta al pubblico decidere la sua fine. Quindi sarà tutto abbastanza relativo. Signorini, è stato taggato più volte dai utenti ed è stata invitata alla produzione ad assumere provvedimenti duri nei suoi confronti, questo dopo alcune esternazioni fatte in queste ore mentre stava discutendo con Edoardo e Donna Maria. Altri però hanno ritenuto poco gravi le sue affermazioni, quindi staremo a vedere esattamente cosa succederà. Non c'è pace al Grande Fratello, no, e non ci sarà mai, probabilmente, nemmeno per Edoardo che ha voluto esprimere un suo semplice pensiero su una delle concorrenti del reality show. Soffermandosi con Donna Maria ha voluto dire la sua su Antonella Fiordelisi e le critiche sono state molto forti, ma alcuni hanno subito precisato che non ci sono state nessun tipo di offese tali da provocargli delle conseguenze, mentre i più duri hanno chiesto a gran voce che ci siano provvedimenti di natura disciplinare alla luce delle dichiarazioni verbali del fratello di Guendalina. Tavassi ha detto Ed Edoardo Donna Maria ha risposto e detto Ma io ci sto male, che cosa ci vedo? Beh, a dirti la verità non lo so. Forse ho sbagliato e probabilmente, anzi sicuramente, dall'inizio a ieri non ho mai capito nulla e ho visto cose totalmente sbagliate. Un utente su Twitter ha scritto Pretendo dei provvedimenti disciplinari per Tavassi, cioè li pretende. Oriana Marzoni e Donna Maria ha ancheci butto in mezzo per le diffamazioni, offese, cattiverie continue ai danni di Antonella. Questo è il suo pensiero. Ma tanti altri hanno chiesto la medesima cosa, quindi stesso identico spiccicato pensiero, ma secondo il sito Bici non ci sarebbero gli estremi per sanzioni disciplinari. Secondo Bici e secondo voi potete scrivere qui sotto nei commenti tutto quello che pensate a riguardo. Per quanto invece riguarda me, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona festività, soprattutto per stasera, non fate tardi, no, vabbè, a mezzanotte ci dovete arrivare tutti per forza, perché bisogna brindare al 2023, anno nuovo, vita nuova, dobbiamo iniziare con i presupposti giusti, mi raccomando. Detto questo, un salutone grande da Max, ci becchiamo alla prossima, prossimo anno forse. Ciao. Ciao.